credo che questo possa essere il momento di cui parlavo prima che cosa abbiamo qui insetti venuti a farsi schiacciare io e il mio mortaio saremo ben lieti di accontentarvi che oratore chiudiamogli quella bocca lo sentite è nell'aria è l'aria è l'aria dobbiamo sbrigarci vai tenisi all'istanza bel morte vai garuda concetto vai bello dai massimo bel troppo lenta perché non muori basta merda diventato akashic poveraccio merita che fa lui non l'avrà per te ormai di lui non resta che odio e furia liberiamolo dal tormento lasciami scappare morti torta lì bello morti torta lì bello vai vai al massimo bel nasce stavolta no di qua effetti che cosa si attra asciugare Lasciami scappare! Ma becco capare, bello! Vai! Lì, bello! Vai! Già il massimo, bello! Già! 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 Già!